...che hanno vinto, tutte le colonne sono le di film, che hanno vinto i vari Oscar, i vari premi importanti. Vi ho voluto fare questo programma, questo repertorio, questo Natale, proprio per dare la possibilità di augurarci a tutti quanti noi anche un Natale da Oscar. Quindi un Natale vincitore, sereno, tranquillo e beato nelle nostre famiglie e nella nostra società. Io ringrazio altrimenti, a nome mio e del Presidente, del Direzione dell'Avato musicale, individuo da parte dell'Associazione ACA di Casabianca, a cui diamo un applauso per l'integno che stanno mettendo e per la morte. Il Natale si passa in famiglia e la passiamo in famiglia anche noi, quindi il fatto di non essere tanti e serpoti non è importante. L'importante è trascorrere un piacevole momenti insieme, anche col freddo di fuori, qua si sta a prendere il caduccio, quindi i problemi non ce ne sono. Bene, abbiamo sentito la famosa sigla di Sinsel Act, che naturalmente conoscete tutti quanti. E ora avremo il prossimo brano, è un altro bellissimo brano, Un altro bellissimo brano che parla di un paese otto, dell'Italia fascista, che vive nella memoria del regista con tutti i suoi personaggi caratteristici. In questo ambiente onirico il giovane ditta naviga attraverso l'adolescenza verso la vita adulta. Questo film è uscito nel 1973, regista Federico Fellini, e ha vinto un Oscar tra il miglior film in lingua straniera. Sto parlando del film Amacord. Buon direttimento e buona grazie. 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 Grazie.